A Pescara oggi si tiene questo importante convegno, questa tavola rotonda per parlare dei costi standard della sanità. Dottor Damario, Regione Abruzzo che è stata una regione virtuosa pur nell'emergenza sanitaria. Sì, in effetti il problema dell'utilizzo delle risorse in sanità ce lo siamo posti già a metà del 2021 quando appunto con la necessità di far fronte all'emergenza pandemica e con un'attribuzione di risorse statali che era di gran lunga e inferiore ai costi reali, ci siamo impegnati molto anche aderendo a un benchmark con grandi ospedali italiani, lo studio Nisan, per capire come è meglio allogare queste risorse. Questo ci ha dato una grande mano perché poi siamo riusciti a chiudere praticamente nonostante il grande impegno dei costi Covid e il nostro bilancio regionale 2021 in pareggio. Però siccome risorse aggiuntive statali per i prossimi anni non sono previste e quindi il discorso di oggi ci pone in un'ottica di prevenzione dell'attribuzione delle risorse e dell'utilizzo delle risorse nei nostri ospedali. Stiamo responsabilizzando le nostre quattro asi in un controllo di gestione sempre più concreto, sempre più attento perché questo permette di tenere in equilibrio sia gli ospedali che la regione Abruzzo. Anche perché per il futuro l'invecchiamento della popolazione porterà insieme al Covid che comunque ha una coda ancora lunga, si prevede una coda di post Covid o di ritorni di piccole puntate fino al 2026, quindi i costi aumenteranno, di come sempre di più liberare risorse da una gestione appropriata.